Rapina finisce in tragedia, muore un'anziana, il corpo della novantenne che viveva da sola nel centro di Catanzaro è stato ritrovato nella serata di ieri, c'è un sospettato condotto in caserma e interrogato dagli inquirenti, Critelli, Raso, Ioppolo e i precedenti che non sono rimasti impuniti. Nuovo sbarco di immigrati a Vibomarina, oltre 300 approdano a bordo di una nave di medici senza frontiere, ci sono anche donne e bambini, tutti sono in condizioni di salute accettabili, funziona il dispositivo di accoglienza composto da istituzioni in società civile. Il lavoro senza alcun diritto, l'ultimo dossier dell'Istat dice che in Calabria un dipendente su 5 è in nero, nel resto d'Italia lo è 1 su 10, il drammatico report di medici per i diritti umani sulla piana di Gioia Tauro e il toccante video degli invisibili sfruttati nelle campagne. Consiglio regionale, i nuovi equilibri, rimborsopoli, l'aggiunta dei prof e il benservito a Guccione e Ciconte mutano lo scenario, ancora più importante per il governatore la stampella del nuovo centrodestra mentre l'opposizione attende il pronunciamento della consulta sul bandaferro. Contro esodo, tutto sotto controllo, code fino a due ore agli imbarchi da e per la Sicilia e traffico intenso sulla Salerno-Reggio, la statale 18 Tirreno e inferiore, lo Ionio Tirreno e la statale 106. Una giornata da bollino rosso che resta però ben monitorata da Anas e Polstrada. Buona domenica e ben ritrovati con l'informazione in diretta della C. Partiamo dalla cronaca, un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione nel centro di Catanzaro. Gli inquirenti ipotizzano una rapina finita in tragedia e c'è già un sospettato condotto in caserma e a lungo interrogato dai carabinieri. Loredana colloca. È stato portato in caserma poche ore dall'aggressione costata la vita alla novantenne Antonia Rotella nei suoi confronti forti sospetti ed elementi investigativi che lo collocherebbero sulla scena del crimine. Si tratta di un cinquantenne di nazionalità italiana ritenuto dagli investigatori il probabile autore della rapina finita con il decesso dell'anziana consumata sigliere in notte al civico 24 di via Alessandro Turco nel centro di Catanzaro. Il corpo dell'anziana è stato rinvenuto privo di vita nell'abitazione dove la donna viveva da sola. A fare la macabra scoperta i parenti della vittima allarmati dall'impossibilità di contattare la loro congiunta. Entrati nell'appartamento grazie ad una copia delle chiavi di casa i familiari hanno notato che anche in assenza di segni di effrazione l'appartamento era stato messo a suo quadro. La novantenne giaceva sul pavimento imbavagliata sul corpo secondo quanto emerso da un primo esame esterno del cadavere effettuato dal medico legale Maria Chiarelli segni di percosse. Sul posto sono giunti gli uomini del nucleo radiomobile della stazione principale dei carabinieri guidata dal maresciallo Bruno e quelli del nucleo operativo comandato dal tenente colonnello alceo greco affiancati dagli uomini del reparto scientifico a coordinare le indagini il cui cerchio potrebbe chiudersi già oggi qualora venisse accertato il ruolo del cinquantenne fermato il PM Fabiana Rapino. E da Catanzaro a Vibo Valencia sono stati tanti i casi di donne vittime di rapine finite nel sangue. Si tratta comunque di vicende che non sono rimaste impunite grazie a magistrature e forze dell'ordine. Sentiamo questo approfondimento fatto per noi da Loredana Colloca. Soggetti deboli, resi ancora più vulnerabili dall'età avanzata e dalla solitudine, colpiti brutalmente nell'intimità della loro abitazione, nel sonno o approfittando del buio. Negli ultimi anni le cronache hanno riportato diversi episodi che hanno avuto come vittime anziane signore rapinate, percosse, morte in seguito a un malore o soffocate dal bavaglio. Come è successo a Isabella Raso, la donna viveva da sola in un appartamento del piccolo centro di San Calogero nel Vibonese. Nessuno la sentì urlare la notte del 15 luglio 2011 perché i rapinatori le avevano stretto un bavaglio intorno alla bocca, assicurandolo con del nastro isolante per poter setacciare l'appartamento alla ricerca di soldi o oggetti preziosi. Alla fine furono costretti ad andare via senza bottino, ma quella rapina costò la vita alla cinquantenne che morì soffocata dal bavaglio e fu abbandonata, priva di vita, dagli aggressori nel corridoio di casa. Successivamente, dopo lunghe e articolate indagini, tre responsabili giovani del posto vennero identificati e processati. Analoga sorte per Lucia Ioppolo, la donna di 85 anni viveva da sola a Soriano Calabro nel Vibonese. Non era del tutto autosufficiente a causa di alcuni problemi di salute, per questo motivo era venuta a contatto con il suo assassino e il 23enne romeno Erdei Romeo Bogdan si era offerto di sbrigare per lei alcune commissioni e una sera aveva deciso di rubarle dei soldi. Sorpreso a frugare in casa, soffocò l'anziana e per fingere che fosse stata vittima di un malore, prima di fuggire le infilò in bocca alcune zollette di zucchero. Infine, a cinque anni dal delitto, vennero assicurati alla giustizia anche i due assassini di Antonia Critelli. La donna morì soffocata da un cuscino durante un tentativo di rapina il 22 marzo del 2009. E cambiamo argomento, nuovo sbarco di immigrati questa mattina nel porto di Vibomarina. Sono oltre 300 approdati a bordo di una nave di medici senza frontiere. Ci sono anche donne e bambini, tutti in buone condizioni di salute. Sono stanchi e affaticati, ma in buone condizioni di salute, i 319 immigrati arrivati questa mattina al porto di Vibo Valencia. Si tratta di una parte dei 3.300 salvati in tre distinte operazioni e che viaggiavano su 16 gommoni e 6 barconi partiti dalla Libia. Ieri il lancio dell'SOS, raccolto dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma, tra gli immigrati sbarcati a Vibo dalla nave Burbon Argos dell'Organizzazione Umanitaria Medici Senza Frontiere, ci sono sette donne, un neonato ed altri 20 minori non accompagnati. La prefettura di Vibo Valencia ha disposto subito la macchina dell'accoglienza per dare i primi soccorsi. Mobilitate anche le forze dell'ordine, i sanitari del 118, i volontari di protezione civile e di altre associazioni umanitarie. La maxioperazione di recupero era scattata ieri a largo delle coste libiche, dove la Capitaneria Italiana ha inviato diverse unità navali, tra queste la nave Fiorillo, la Diciotti e quattro motovedette, una nave norvegese in forza al dispositivo Triton e mezzi della Marina Militare e della Guardia di Finanza. Sono più di 105.000 emigranti arrivati in Italia nei primi otto mesi del 2015 e il porto di Vibo è tra i 15 più utilizzati per gli sbarchi in forza della sua struttura. E sentiamo ora dalla voce dei cooperanti di Medici Senza Frontiere ulteriori dettagli sullo sbarco. Le abbiamo soccorsi a 25.000 a largo della costa libica. Il barcone stava affondando, aveva già imbarcato acqua. Siamo arrivati giusto in tempo. Questa volta ci sono molti giovani, 64 ragazzi sotto i 18 anni. Il più giovane ha solo 11 anni. Tutto sommato sono in buone condizioni, ma 40 persone presentano ferite e bruciature che sono state curate e medicate. Arrivano da diversi paesi dell'Africa, Gambia, Niger, Costa d'Avoli. Abbiamo soccorso persone di 18 diversi paesi. La situazione ora è sotto controllo. Stanno bene. E ora un aggiornamento battuto pochi minuti fa dalle agenzie in merito all'aggressione dell'anziana uccisa durante un tentativo di rapina. L'autore dell'omicidio sarebbe il 46enne Leonardo Procopio. I carabinieri lo hanno identificato grazie alle riprese di alcune telecamere di videosorveglianza di esercizi commerciali presenti nella zona. Procopio, con precedenti specifici, ha poi confessato agli investigatori dell'arma le sue responsabilità. I particolari sono stati resi noti durante una conferenza stampa convocata nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, alla quale hanno preso parte anche il procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri e gli investigatori dell'arma. E proseguiamo. I temi del lavoro. La pubblicazione degli ultimi dati Istat rende sempre più fosco rende sempre più fosco il quadro inerente al mondo del lavoro in Calabria. Uno su cinque, dice, il rapporto è in nero. Gabriella Passariello. La Calabria vive di lavoro sommerso. Uno su cinque lavora in nero. Un dato drammatico diffuso dall'Istat dove emerge che la diffusione del sommerso è alta soprattutto tra i lavoratori più giovani, toccando il 21,3% sotto i 25 anni, mentre i più anziani raggiungono la soglia del 23,2% tra i 55 e i 64 anni, con punte del 36,7% per gli over 65. Ancora una volta, a rimetterci più di tutti è il gentil sesso. La probabilità di lavorare in nero è maggiore per le donne che per gli uomini e aumenta al diminuire del livello di istruzione. Due milioni di lavoratori in Italia sono sconosciuti al fisco e senza assicurazione contro gli infortuni, né tantomeno versamenti previdenziali. Un esercito di lavoratori senza nomi, in grado però di generare annualmente un'economia sommersa pari a 41 miliardi 837 milioni di euro, con un'evasione complessiva di 25 miliardi di imposte e contributi. E parlando di lavoro nero, sicuramente i più abusati sono gli immigrati, specie quelli stagionali che operano nella piana di Gioia Tauro. Sono le prime vittime del caporalato di cui si occupa il rapporto di medici per i diritti umani. Ce ne parla Francesco Creazzo. Terra ingiusta. Si chiama così il report di medici per i diritti umani a proposito dello sfruttamento dei migranti nell'agricoltura italiana. Ciò che nuovamente emerge dal documento è che a più di cinque anni di distanza dalla rivolta di Rosarno del gennaio 2010, sulla piana di Gioia Tauro non è cambiato nulla. Sono in tutto circa 3 mila i lavoratori stagionali per lo più di origine africana che lavorano nella piana di Gioia Tauro. In tutta la Calabria sono più di 8 mila. Da 50 centesimi a un euro per raccogliere una cassetta di agrumi, condizioni di vita antigeniche e fatiscenti. E se esistono contratti, sono stipulati da invisibili, con documenti di altri migranti in regola. L'80% degli stagionali però un contratto non l'ha mai visto. 8 su 10 lavorano in nero e dormono per terra, non hanno nemmeno un letto. È la stessa percentuale che vive in strutture abbandonate senza acqua né luce. Il perdurare di pratiche illecite come quella del caporalato, spiegano i medici per i diritti umani, si inserisce in un quadro segnato dalla grave carenza di credibili programmi di rilancio del settore agricolo in grado di dare respiro all'economia locale. Ciò che sembra mancare del tutto, conclude l'organizzazione, è la volontà politica di affrontare quella che è una delle questioni dell'immigrazione più drammatiche e anche più vergognose per il nostro paese. E Medici per i diritti umani ha anche realizzato un video di recente pubblicazione sul viaggio effettuato nel 2014 lungo la piana di Gioia Tauro. Un video molto toccante che noi vi proponiamo in questa edizione del nostro telegiornale. La stagione agrimicola sta finendo e in questi casolari abbandonati vivono ancora un centinaio di persone. Questa vecchia struttura è pericolosa. Non c'è acqua, non c'è luce, non c'è bagno, non c'è la doccia. E anche non c'è un sistema per i rifiuti. Per prendere l'acqua i ragazzi devono andare in bischirete a un pompa benzina. Molti ragazzi mangiano solo due volte al giorno, la mattina e la sera. Cibi che costano poco, come riso e pasta. Le persone che vivono qui sono i giovani lavoratori. Quasi tutti hanno il permesso di cesurano. Lavorano nelle campagne. Tutti i giorni lavorano 9-8 ore al giorno. E guadagnano 25-30 ore al giorno. Senza contratto. E più della metà sono rifugiati. Ieri, come vi abbiamo già raccontato nelle precedenti edizioni del nostro telegiornale, è stata la giornata dello sciopero dei lavoratori del porto di Gioia Tauro. Una giornata che si annuncia come la prima di un'intensa mobilitazione. Sciopero e manifestazione contro gli oltre 350 esuberi in cantiere e per uno sviluppo dell'infrastruttura. Ieri a Gioia Tauro al porto hanno pesato le presenze e le assenze, le parole come i silenzi. In prima linea i sindaci della Piana, i parlamentari 5 Stelle, le delegazioni di rifondazione comunista e comunisti italiani. Dal Consiglio regionale, c'era solo Gianni Nucera della sinistra, ci si aspettava molto di più. E se almeno Flora Sculco, a mezzo stampa, ha gridato forte il suo sostegno alla causa, il resto ha taciuto. Così come hanno taciuto governatore Giunta. Eppure, alla cittadella ora c'è anche un assessorato con Delega al porto. Bando alla politica, il silenzio che è più appesato è stato quello della MedCenter, la società che da ormai quattro lustri gestisce lo scalo. I volumi si riducono drasticamente. Una differenziazione della vocazione del transhipment, in queste condizioni appare un'utopia. I tagli al lavoro diventano giorno dopo giorno una certezza. La battaglia, d'altronde, è solo all'inizio. Lo sciopero non è il capolinea, ma il punto di partenza di una mobilitazione che trasformerà Gioia Tauro in una polveriera. E adesso passiamo alla politica. Il Consiglio regionale torna a riunirsi il 31 agosto, si discuterà di fondi comunitari, mentre l'assise di Palazzo Campanella inizia a fare i conti con nuovi equilibri. Pronto a ripartire il Consiglio regionale. L'Assemblea di Palazzo Campanella, sotto la presidenza di Nicola Irto, tornerà a riunirsi il 31 agosto. Fondi comunitari all'ordine del giorno. Propedeutica, la riunione della commissione bilancio guidata da Giuseppe Ieta, avvenuta nei giorni scorsi, per rimodulare il POR. L'emiciclo si ritroverà nel solco di nuovi equilibri determinati dall'inchiesta Rimborsopoli e dal varo della giunta dei prof. voluto dal governatore Oliverio e costato il ben servito a due big del calibro di Carlo Guccione e Enzo Ciconte, oltre che la nascita di un fronte critico alimentato anche dai fedelissimi del presidente, Vincenzo Pasco e Orlendino Greco in primis, oltre che Flora Sculco di Calabria in rete e Gianni Nucera di Sinistra, Ecologia e Libertà. In questo quadro il ruolo del nuovo centrodestra, rimasto stampella del governatore, in forza all'accordo politico-istituzionale siglato di inizio legislatura, diventa sempre più prezioso. Servirà anche ad alleggerire il peso di un'opposizione che attende con ansia la decisione della consulta sulla vicenda che interessa l'ex candidata alla presidenza, Vanda Ferro, speranzosa di entrare a Palazzo Campanella, a scapito di Ennio Morrone. E adesso il traffico. Ieri è iniziato il controesodo e anche oggi code agli imbarchi da e per la Sicilia. Traffico sostenuto lungo la Salerno-Reggio Calabria e le altre principali arterie, ma la situazione rimane sotto controllo. Fino a due ore di attesa agli imbarcaderi di Messina e Villa San Giovanni. Traffico sostenuto anche sulla Salerno-Reggio, sin dalle prime ore del mattino, domenica quindi come sabato, la riapertura del viadotto Italia e gli interventi conclusivi che hanno dato sfogo alla viabilità da e verso nord, d'altronde hanno consentito di attenuare gli effetti del controesodo, che conclude la penultima settimana di agosto, in una regione che di questi tempi in passato segnava sui diari giornate da incubo più che da bollino nero. Non è un caso, d'altronde, che qualche rallentamento si registri solo in prossimità dell'unico cantiere rimasto aperto tra Mormanno e Laino Borgo, in provincia di Cosenza, nel tratto oggetto del tragico crollo che il 2 marzo scorso è costato il cedimento di una campata del viadotto Italia e la morte di un giovane operaio. Traffico intenso anche lungo la strada di Grande Comunicazione Ionio-Tirreno, lungo le statali 18 e 106 Ionica, il tutto monitorato con attenzione da ANAS e Polizia Stradale. E torniamo alla cronaca, andiamo a Motta Santa Lucia. Gli inquirenti hanno una pista che potrebbe portare all'autore dell'attentato, il terzo della serie, subito nei giorni scorsi dal sindaco Amedeo Colacino. Potrebbero risultare decisivi il contributo offerto ai carabinieri dallo stesso prima cittadino, ma anche i filmati registrati da alcune telecamere di videosorveglianza. Potrebbe essere vicino ad una svolta il caso di cronaca che vede protagonista il sindaco di Motta Santa Lucia, Amedeo Colacino, la cui autovettura è stata incendiata nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Una telecamera di sorveglianza avrebbe infatti ripreso l'attentatore. Dalle immagini si vedrebbe in maniera nitida la figura dell'uomo e quella del contenitore con liquido infiammabile, ma c'è di più, sarebbe partito un ritorno di fiamma che avrebbe colpito l'attentatore. In questo caso potrebbero esserci bruciature o comunque segni che potrebbero aiutare ad individuare il responsabile dell'atto criminale. Ad analizzare i fotogrammi ci sono ora i RIS di Messina che a breve potrebbero dare importanti notizie sull'accaduto. Un attentato, il terzo subito da Colacino, che sarebbe legato ad alcune decisioni intraprese dall'Aggiunta e che a qualcuno non sarebbero piaciute. E il primo cittadino avrebbe anche delle idee su chi potrebbe avere progettato l'atto intimidatorio, ipotesi le sue riferite ai carabinieri. Il cerchio si sta stringendo e a breve il responsabile potrebbe vedersi mettere le manette ai polsi. E continuiamo con la cronaca, ma in questo caso intrecciata la sanità. Personale ridotto all'osso al pronto soccorso di La Mezzia Terme ed impossibilitato a fronteggiare le continue emergenze. Così una infermiera è stata aggredita verbalmente e costretta a farsi scortare, fisso un toccaso, dai carabinieri. Domenica da Bollino Rosso al pronto soccorso di La Mezzia Terme. Tanti, troppi pazienti in attesa e solo due medici e quattro infermieri pronti ad accogliere le loro richieste. Ed ecco che scoppia il caos e a farne le spese un'infermiera dell'accettazione, che al termine del suo turno di lavoro è stata aggredita dai familiari di alcuni pazienti. Il clima è diventato talmente infuocato che le forze dell'ordine hanno dovuto scortare la donna fino a casa. Due i codici rossi che avrebbero mandato in tilt la macchina del pronto soccorso, costringendo così gli altri casi a lunghe ed estenuanti attese aggravate dai malori in corso. Per riportare la calma è dovuto intervenire il personale addetto alla vigilanza, un caso quasi paradossale che si inserisce nel disegno machiavellico nelle cui spire è finita la struttura ospedaliera Giovanni Paolo II di La Mezzia. Personale medico di infermieristico ridotto all'osso, reparti cancellati e altri accorpati, come nel caso di pediatria e neonatologia, che a settembre diventeranno un unico reparto. Questo nonostante siano risulocati in piani diversi dell'immobile e nonostante richiedano professionalità e formazioni decisamente diverse. Anche microbiologia diventerà tutt'uno con il laboratorio di analisi, mentre la terapia intensiva neonatale è stata già chiusa. Il tutto nell'ottica del risparmio e del nuovo disegno della sanità firma del commissario Scura a farne le spese, come sempre, gli ammalati. E adesso andiamo a Crotone, dove la Recycling, impresa che si occupa di rifiuti ma anche di logistica portuale, ha subito il terzo pesante danneggiamento. Presi di mira gli otto camion dell'azienda della sua flotta e la ditta dice che siamo nella morsa della mafia ma anche dello Stato. Il terzo attentato in tre anni, danni per 8.000 euro, ma specialmente una serie di denunce con nomi e cognomi di coloro che avrebbero causato i danneggiamenti senza che nulla abbia fatto seguito. La ditta Recycling di Crotone si occupa di attività logistica portuale e di smaltimento di rifiuti. Nella notte di venerdì, i gnoti hanno rotto i parabrezza di tutti i camion presenti nel piazzale e danneggiato i deflettori laterali. Le telecamere hanno ripreso tutto, ma i soci dell'azienda sono sfiduciati e temono che servirà poco. In un'intervista rilasciata al Quotidiano del Sud, uno dei titolari, Massimiliano Arcuri, spiega che dopo l'ultima denuncia, con tanto di nomi e cognomi, all'azienda sarebbe stata revocata la certificazione antimafia dal prefetto e che dopo aver fornito i video che testimoniavano i danni in un episodio simile subito, lui stesso sarebbe stato denunciato per violazione della privacy. E poi ancora altre anomalie, come lo strano caso di un CD contenente immagini fondamentali per risalire i criminali, sparito dal fascicolo del PM. A cosa serve puntualmente denunciare quando anche lo Stato è contro di te, si sfoga Arcuri, che lamenta di non avere nessuna forma di tutela e di sentirsi fortemente scoraggiato? E ora in breve le altre notizie di cronaca della giornata. Due piantagioni di canapa indiana sono state scoperte dai carabinieri della compagnia di Roccella, incontrata a cola di Gioiosa Ionica in località Crimea a Martone. I militari l'hanno arrestato in flagranza per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Lorenzo Bruzzese, di 46 anni, Rocco Sainato, di 33, Giovanni Schirripa, di 49 anni. Una piantagione risultava composta da 1530 fusti di canapa indiana, l'altra da 600, sequestrati anche altri 90 kg di marijuana pronta allo spaccio. Sale così a 29 il numero delle piantagioni scoperte dai carabinieri del gruppo di Locri dall'inizio dell'estate. Illecita coltivazione di sostanza stupefacente, con questa accusa i carabinieri di Iopolo hanno tratto in arresto due giovani, Antonino Maccarone, di 28 anni, di Iopolo, e Giuseppe Navarra, di 24 anni, di Rombiolo, sorpresi dai militari dell'arma, incontrata a Siroto di Iopolo in un'erede maniale nei pressi di un torrente, mentre irrigavano circa 2500 piante di marijuana. Avrebbe violentato una donna ospite, come lui, di un centro di protezione richiedenti asilo e rifugiati nel Catanzarese. Per questo i carabinieri della stazione di Marcellinara hanno tratto in arresto un cittadino nigeriano di 40 anni su ordinanza del Tribunale di Catanzaro. Le indagini sono partite dopo la denuncia di una donna di origine etiope, ospite dello Sprar di Miglierina, che ha raccontato di avere subito una violenza sessuale dall'uomo. Un fucile perfettamente funzionante. Il risultato rubato nel 2009 è stato rinvenuto dai carabinieri nel soffitto del vano ascensore di uno stabile di Viale Isonso a Catanzaro. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della stazione di Santa Maria di Catanzaro dopo una perquisizione. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco è stato possibile smontare il soffitto dell'ascensore scoprendo l'arma imballata. Il fucile sarà inviato ai RIS di Messina per gli accertamenti del caso. Un incendio ha completamente distrutto il capannone di proprietà di un consigliere comunale di Cortale, Raffaele Cantafio, concesso in affitto alla società di trasporto autolinea Romano di Crotone. Il rogo ha avvolto un autobus di linee rientrato poche ore prima dal normale servizio e due autovetture d'epoca di proprietà dello stesso Cantafio, indagano i carabinieri. Finisce qui questa edizione del nostro telegiornale. Adesso una breve pausa pubblicitaria e come consuetudine il Tg Sportivo. Buona domenica. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia.